Nel 10 anniversario dalla nascita di Aquardens, protagonista indiscussi di questo spettacolo non vuole essere che acqua, acqua, fonte di vita e fonte preziosissima da cui tutto prende forma questo grande e meraviglioso parco termale. E' proprio pagato eh, non l'avete proprio regalato. Lasciateli incantare da questo palcoscenico infinito che dalle lagune, grotte e cascate si vibra nell'aria e ci abbolge tutti in questo magico show. Rilassatevi, rilassatevi, nella carezza delle nostre acque termali. Ma la torta hai visto come è fatta, è tutta di cupcake, ma muoci quanto caldo. Ebri anti-idromassaggi. Lasciate andare le tensioni e seguiteci. Seguiteci in questo magico racconto. Maiala... Attenverso l'energia della musica... La musica... Non c'è più respiro. Ehi... Dov'è la musica? Benvenuti. Noi siamo Acquardens. E questa è... Acqua... Acqua... Dio porco... Ma dai... Scherziamo? Ah sì? Ah sì? Mamma zia... Prividi! C'è così? C'è Skyfall così buttata lì così. Wow. C'è... C'è... Wow. C'è... C'è... ù Store... C'è sempre caduta felice. C'è, sì... C'è... Yeah... C'è... C'è... L'enrela chiud, né? C'è... 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 Dave! C'è... Dio... Bane! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non si può mettere una cantante così a fuori del portodio. Non si può andare adentro. Non si può mettere una cantante così a fuori del portodio. Non si può mettere una cantante. 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 Non si può mettere una cantante.